Nel leggere i testi di Michela Gorini, i quattro testi che sono stati inviati per la sezione B del premio Giorgi, ho pensato immediatamente a una parola, una parola identificata, localizzata, alla fine degli anni 30, da una scrittrice forse un po' obbliata in Italia, la Therissa Haute. Mi ha influenzato la mia formazione di francesista, ma nel leggere i versi di Michela Gorini, ho pensato ai tropismi, i tropismi di cui Saute parla in un suo saggio alla fine degli anni 30, un testo intenso, incomprensibile in certi casi, perché nel suo testo, nel suo saggio, la parola tropismi, diciamo così, cambia significato e l'obiettivo di Saute nel suo testo è quello di utilizzare la parola tropismi per parlare delle trasformazioni impercettibili, dei movimenti anche quasi trasparenti all'interno della vita psichica degli individui. Certo, la formazione psicoanalitica di Michela Gorini può influenzare ed emerge fortemente nei suoi testi, testi che mi hanno molto colpito, per lo sguardo portato nei confronti del corpo, per anche l'intensità nel raccontare, nel sondare questo corpo trasparente, trasparente, testi che definiscono un rapporto nuovo tra poesia e corporeità e per dire soprattutto che questo corpo trasparente, per osmosi quasi, è attraversato da un flusso poetico nuovo, un flusso poetico che in questi movimenti della coscienza trova vita, movimenti della coscienza che sono sondati da Michela Gorini con l'uso del verso libero, dell'anafora, di paratassi, ma anche con presenze aliene, lontane, inconsce, parentesi quadre, che riportano il testo su un altro piano. Testi in movimento, proprio come il movimento di questo corpo che viene riprodotto nei versi.